alle mie spalle vedete scorrere il nuovo trailer di ramma e mezzo il nuovo remake dell'opera di rumiko takashi la prima serie era composta da 161 episodi anche se purtroppo l'epilogo fu diverso da quello del manga ma nonostante ciò l'anima ebbe un grande successo ed è rimasto comunque nei nostri cuori l'anima arriverà su netflix ed è stato prodotto dallo studio mappa lo stesso studio che l'anno prossimo porterà anche il remake di lady oscar io sinceramente non vado matto per il remake anche perché di solito stravolgono il design ma devo essere onesto almeno da quello che ho visto dal trailer questa volta hanno rispettato il character design hanno modernizzato le linee e quindi anche un po i personaggi però non li hanno stravolti sono molto simili alla prima serie e spero anche che questa sia la trasposizione che rispetti la trama del manga visto che la prima serie animata ha avuto un epilogo completamente diverso da quello del manga e voi cosa ne pensate di questo nuovo remake fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando se ancora non vi siete iscritti al canale non dimenticate di farlo per non perdervi il prossimo video non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su youtube ciao a tutti